Siamo qui con Varese Noia a Espo Ticino e qui è Neven di Spiritual Tours, è un'agenzia turistica di Varese che sta prendendo sempre la fiera. Come mai sei qui a Lugano oggi, Neven? Siamo qua alla fiera di Lugano, in quanto siamo di Varese, siamo vicini a Lugano. Da quest'anno la tisana ha unito anche il settore turistico dedicato alle vacanze a Lugano. Quindi abbiamo pensato di partecipare, essendo vicini, per promuovere anche il territorio varesino con i nostri prodotti e i nostri servizi. Qui vediamo il Sacro Monte di Varese che tu sponsorizzi, le nostre eccellenze nel territorio. Che cosa si chiedono le persone, che cosa racconti ai turisti e alle persone che vengono in questo settore? Sì, diciamo che la maggior parte delle persone sono interessate ai cammini. Io faccio sempre l'esempio della via Francesca del Lucomagno, che passa da Varese, passa da Sacro Monte, e che molte persone riconoscono appunto il diale delle cappelle e sono interessate anche a approfondire il discorso della via Francesca del Lucomagno. Che io ho piacere a sponsorizzare, a descrivere, perché l'ho fatta più volte io, sono appassionato di cammini ed è sempre un piacere. Grazie a voi, ciao ciao.